Gli uomini della squadra mobile di Pescara hanno individuato l'autore delle due rapine commesse ad aprile scorso nell'ufficio postale di Via De Amicis a Pescara. Si tratta di un 27enne nato ad Atri, in provincia di Teramo, ma residente a Pescara. Il primo colpo risale al 18 aprile, quando armato di coltello e avvolto coperto, il giovane entrò nell'ufficio facendosi consegnare 570 euro. Il secondo colpo invece di una settimana dopo, con il medesimo modus operandi, il 27enne portò via 277 euro fuggendo in bicicletta. L'attività investigativa della mobile ha permesso di risalire al ragazzo Reoconfesso che, arrestato per rapina aggravata e posto ai domiciliari, è stato trasferito nel carcere di San Donato dopo l'evasione dalla detenzione domiciliare. Ovviamente non era facile individuarlo perché era travisato, era armato di coltello ma era travisato. Conosceva perfettamente la zona perché si era dileguato perfettamente subito dopo le due rapine. non era riconoscibile dai dipendenti dell'ufficio postale proprio in considerazione del travisamento per cui siamo riusciti ad arrivare al colpevole che poi ha anche confessato a seguito della perquisizione che ha permesso di ritrovare gli indumenti che aveva utilizzato durante le rapine proprio in virtù di questa intuizione del nostro poliziotto che ha capito che poteva trattarsi proprio del rapinatore quando lo ha rintracciato. Grazie. Grazie.